Non ci sarà un processo nei confronti di Laria Naldini, la mamma 38enne che lasciò in auto la figlia di 18 mesi il 7 giugno scorso. La piccola morì per il caldo dopo 5 ore passate al sole a Castelfranco di sopra, nell'Arettino. Il GIP del Tribunale di Arezzo ha archiviato l'inchiesta perché, secondo quanto affermato dal legale della donna, le consulenze tecniche di entrambi le parti avrebbero diagnosticato un'amnesia dissociativa transitoria. L'inchiesta si precisa, era un atto dovuto, ma fatti tragici come questo purtroppo sono all'ordine del giorno. Negli Stati Uniti, fa sapere il legale, oltre 700 bambini negli ultimi 20 anni sono morti per circostanze simili. La tragedia si consumò lo scorso giugno, era un martedì mattina. La donna dipendente del comune di Castelfranco, Piandisco, era convinta di aver portato la figlia all'asilo. La piccola venne ritrovata dopo aver trascorso 5 ore sotto al sole rovente, fatali per la piccola di appena 18 mesi, colta da un arresto cardiaco a seguito di un colpo di calore. All'origine della tragedia, un blackout nella memoria della mamma, tesi avallata dalla procura di Arezzo con il pubblico ministero Andrea Claudiani, in accordo con il procuratore Roberto Rossi, che avevano chiesto al giudice l'archiviazione del caso.